Il presidente dell'Associazione Culturale, l'agente d'Abruzzo, Federico Gallucci, torna a chiedere l'intervento del prefetto per garantire la sicurezza delle infrastrutture aeree. Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, l'avvocato Gallucci invoca l'intervento dei rappresentanti del governo per garantire la sicurezza dei viadotti. Da diversi mesi ho attenzionato due problematiche, quelle relative alla mala gestione della nostra asla e soprattutto quelle relative, in occasione della tristissima sciagura del ponte Morandi, della sicurezza delle infrastrutture di aree aeree della regione. Per questo ho inviato una serie di fide al direttore generale della ASRA senza esito, un interpello formale al prefetto di Chieti e agli altri tre prefetti parimenti senza esito. Ho lanciato da ultimo un appello, ho chiesto agli amministratori della mia città di raccogliere questa richiesta di aiuto. A raccogliere l'esortazione di Gallucci, l'assessore comunale alle attività produttive del comune di Chieti, Carla Di Biase. Sì, raccolgo l'impegno che ho preso in campagna elettorale perché credo che le elezioni sono terminate il 10 febbraio ma l'impegno politico continui e quindi mi auguro che il direttore generale dell'ASRA in carica mi riceva il più presto possibile e che quindi le mie richieste non rimangano le tramorte. E anche il prefetto. Il primo perché è ovvio che il nostro nosocomio, come io ho scritto, ha versato in condizioni critiche e anche perché è molto importante portare avanti per me lo screening sul diabete di tipo 2 che è a costo totalmente gratuito. Per quanto riguarda la sicurezza io credo che i sindaci ad oggi sono rimasti degli eroi in trincea perché gli è rimasta solo la fascia tricolore, risorse zero. Però spesso ci scordiamo che il prefetto è l'organo di governo sul territorio quindi la necessità da qui di aprire immediatamente un confronto e un tavolo tecnico di verifica. Assessore, per concludere, lei nei mesi scorsi è stata molto impegnata sulla vicenda dei tassisti tiatini all'aeroporto d'Abruzzo. Cosa intende fare? Beh, io naturalmente con l'elezione di Marco Marsiglio nutro molta speranza. Cosa intendo fare? Appena si insedierà il Presidente, il Consiglio regionale e soprattutto la nuova giunta chiederò un incontro affinché dopo l'ingresso all'aeroporto vengono regolamentati da decreto del Presidente della Regione come la legge vuole i posti e quindi vorrei che si ripristinasse la legalità all'interno dell'aeroporto.